Avrebbe violentato la figlia per anni, mettendola incinta e costringendola ad abortire. L'accusa, agghiacciante, è a carico di un padre residente nel territorio del comune di Como, arrestato dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta dal pubblico ministero Alessandra Bellù. Tutto sarebbe partito da una denuncia fatta dalla giovane, che oggi ha 17 anni, ai carabinieri. La ragazza avrebbe raccontato gli anni di molestie e violenze da parte del genitore. La giovane sarebbe rimasta incinta a 15 anni, proprio in seguito a un rapporto con il padre, il quale l'avrebbe spinta ad abortire con la promessa di interrompere le violenze. Violenze che sarebbero invece continuate fino alla denuncia della giovane che risalirebbe a Natale. L'indagine è poi sfociata in un fascicolo della Procura della Repubblica, che ha chiesto al giudice la custodia cautelare in carcere del genitore, oggi 50enne. L'uomo si trova in carcere al Bassone e nelle scorse ore sarebbe già stato sentito dal giudice delle indagini preliminari. Nel frattempo anche la moglie si sarebbe presentata dalle forze dell'ordine per denunciare il marito per i maltrattamenti subiti.